4 tifosi Inter campione di Champions League campione d'Europa Champions League vinta Inter 4 Medipol Basaxer 0 4 a 0 il campione di Champions League Sarebbe Champions League solo che non ci stava Champions League campione d'Europa ma quest'anno possiamo dire che ha vinto la Rubentus o la Drentus però qua vince solo la grande Inter eccoli qua allora possiamo dire che ha vinto quest'anno anche la Rubentus e la Drentus io ve ladra io ruba e anche l'Inter la grande Inter non la grande Rubi Inter ma la grande Inter forza Rubentus guardate qua vediamo il gol la prende e tiro reto per la perisic assist tiro reto io ho vitticino e poi l'aparato e babacare fino per la